con marco stiamo montando la bici per questa avventura fantastica ride inside off road con il grande andrea che tra l'altro vi racconterò tutto tutto il suo percorso di viaggi per il mondo velocemente andrea come va come va da dove arrivi messico è un sano veneto ma ha girato il mondo avremo modo di parlare di andrà guardate che macchina guardate che macchina guardate che macchina questo è un land rover tutto in alluminio super leggero guardate che gomme posteriori davanti guardate guardate che macchina defender oggi abbiamo accompagnato su un posto meraviglioso il delta del po marco che deve partire marco di rovigo con questa bici in alluminio creata da lui una mountain bike modificata con manubrio city bike sella smp e dove vai oggi marco oggi voglio pedalare intorno alla sacca di scardovari sacca il mio sogno del cassetto ecco perciò senza che andate in grecia in messico a new york a miami abbiamo dei posti che oggi vi farò vedere bellissimi sul delta del po in provincia di rovigo e tutti pensano che non ci sia ma a rovigo ci sono delle cose nella provincia che i tedeschi vengono qua e pagano fior di quattrini noi ce le abbiamo gratis ma oggi siamo con la defender abbiamo beccato il temporale meglio così l'avventura l'avventura è più bella